Che noia, che noia, continua, ok, e il volume dovrebbe essere a posto, ok, si va, arco nero di Boris, chi se ne frega, si va, che poi, che Boris che non è per Dark Souls, abbiamo 2200 anime solo, easy. Per vedere le nuove emotes non basta aggiornare la pagina Twitch? No, no, lui chiedeva un posto dove fossero, ma che armature c'ho, minchia, non me lo ricordavo di essermi conciato così male, sono orribile, chiedeva, ah, il contatore, chiedeva, grazie mille, chiedeva un posto dove ci fosse un qualche elenco delle emotive, adesso, guardali lì ai lati, stronzi, puzzi, culi, della merda, del culo, della fottuta merda. Allora, Miyazaki, non mi incominciare a far parlare di tua madre che qua non finiamo più, eh, c'ho qualcosa là dietro che spacca le vetrine, olè, aiuto, muoio, devo curarmi, curati, grazie, via, uh, ah, ma sono fatti di cristallo fatto queste cose qua, insta morto Pog, ma facilissimo, aiuto, eh, aspetta, perché prima devo pensare, guarda, Ilia, passavo per il saluto mentre trovo il game, gg guys, buona live e buon giacomo a tutti i cappi. What? No, tutta la vita, cosa, avevo tutta la vita? Ma questo non è DarkSoul3. Grazie forse, cioè, grazie Miserate e grazie forse, no, è il primo, perché, perché dovrebbe essere il tre, perché mi trollate così male? Nel senso che tu avevi detto che da domani saranno attive. Buon, comunque buon giacomo, anche a te, Miserate. Nel senso che tu avevi detto che da domani saranno attive. Ah, no, 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 quelle nuove che ho messo questa sera saranno attive da domani. Sì, no, non basta aggiornare, no, no, non basta. Oh, che buco. No, comunque, Miserate è buon giacomo, anche a te forse non ho capito la trollata. Cioè, ma hai detto, non è DarkSoul3, ma perché? Perché è più bello, eh? Perché è più bello il tre, perché è più bello il due. Contro questi cristalli è più efficace il tipo di danno da colpo come quello dei martelli o il dente di idralli. Che noia che siete. Non mi conoscete, a quanto pare, che userò per sempre la stessa arma, vero? E se sarà troppo difficile a me sarà colpa del gioco. Non mi conoscete troppo, vedo. Sì, ma questi qua mi shottano comunque, sono fortissimi, sono Orstein e Smaug 2. Comunque, ragazzi, quello che volevo dire anche... Guarda, guarda, guarda. Che poi già con le frecce tolgono un Giacomo di vita. Quello che volevo dire, ragazzi... Perché ho dieci fiasche solo, che prima ce ne avevo dieci. Puttana, tutte voi. Inchia sto arciere ha rotto i coglioni in una maniera. Ma, ma dai! Uh, come l'ho schivato, l'ho fatto apposta. Dove sta sparando l'arciere? Allora, quello che volevo dire era che... Sono vivo! Uh, uh, fì, uh. Sono vivo! Ok, sti nemici sono... Ok, sono un attimo... È in difficoltà perché questi nemici, la prima volta che li incontro, sono comunque complessi, devo capire nel pattern. Un attimo. Ah, forse, ok, ok. Mi ricordavo che avessi finito la live in un altro posto e vedermi che eri in un altro luogo, mi ha confuso ai pericoli. Omega, lulla. Ma non è colpa mia, sono tutti fortissimi, sono i mob più difficili del gioco. Comunque, ragazzi, quando... Se e quando porterò il 2 e il 3, vedrete che sono molto più bravo. Se e quando lo porterò. Perché non so se li porterò anche quelli. Ma cosa voleva dire? Eh, non mi ricordo cosa stavo dicendo. Comunque, forse, appunto, questa cosa qua del 2 e del 3, che se li porterò, vedrete che sono molto più bravi. Non posso farlo scendere già perché tanto ora muoio, così ce l'ho già pronto. Guarda, però, guarda i bug. Ora... Ora uso i bug, vediamo. Olè. Olè. Gli exploit. Fra l'altro danno zero anime, cioè fanno schifo al cazzo questi qua. In tutto e per tutto, proprio come me. Portali, please. Eh, dipende. Vedo che Dark Souls, comunque, è la cosa che più vi interessa, perché tipo anche alle... A luna di notte siamo in tipo in 150 volte. Vabbè, altra volta c'era anche il boss più iconico del gioco, ok, però. Dio mio. Però comunque è uno dei giochi più comunque apprezzati di sempre qui sul canale. Quindi in effetti anche il 2 e il 3 potrebbero essere molto apprezzati, sì. Ma, eh, quest'uomo lo devo uccidere? Lui però mi odia già. Che effetto brutto, sembra la Muki, sembra l'acqua, l'acqua ossigenata sopra la ferita. No, mi dà troppo fastidio quest'uomo, però. Aia, puttana tua madre. Sì, ma non riesco a combattere con entrambi. Pugnali, pugnali. Col taro d'arancio! Ok. Ha funzionato. Ha funzionato. Eh, mi fa troppa paura quest'uomo, però. Questo signore qua mi sembra fortissimo. Ok, però sembra più lento di me. Ah, ma è morto. No! Uccidilo, uccidilo! Mancava un colpo, l'ho mancato. Almeno mi desse l'anima del viandante. Mi sa che la tua acqua ossigenata è scaduta. No, ragazzi, è quando la mettete sopra una ferita che fa quella schiuma che fa veramente venire il vomito. Quest'uomo qua, però, mi sta rompendo i coglioni con questa, con questo spam di cameroni. E mi stanno tirando altri coltelli. Che fastidio! Cioè, altre frecce. Che fastidio! E altri coltelli, perché ora sono abituato a Gwendolyn. A quella donna. Ma no, ma non dovrebbe il pendente cosa? Aspetta che non ho detto... Ma no, ma non dovrebbe dare il pendente delle DLC? Aia! Aia! Ah, stavo leggendo la... Allora, abbiate rispetto per chi sta streammando, voi omini di cristallo. Io sto streammando. Devo dare ascolto a persone molto più importanti di voi. Omini di... Omini di cristallo di merda. Sapete cosa faccio adesso? Basta. Ravvivo l'umanità. Basta. Lo faccio. Ne mangio due, basta. Basta. Come posso... Ah, sì, è vero. Ok. Il dipinto. Il dipinto lo facciamo, il dipinto lo facciamo. È che sono finito qua a caso. Olè. Easy. Easy. Easy game, easy life. Ok. Ora ne abbiamo 10 e fanculo. Cos'è sta combustione che abbiamo in cima lì? Levala che tanto mi sono tolto le mani. Lucifer 96666. Grazie mille Lucifer. Grazie mille di cuore. Direttamente dal wifi dell'inferno. Grazie mille Lucifer. Grazie mille di cuore. Grazie per la sub e benvenuto anche a te. Salutami Minosse al primo cerchio. Anzi no, neanche. Prima del primo cerchio. Quando smista le anime per mandare... Dopo il limbo? Prima del limbo? Dopo il limbo, mi sa. Salutami Minosse. Quindi, dato che mi sono tolto le mani, non vedo il motivo di continuare ad avere la combustione lì sopra. Vieni qua. Che lì io non posso combattere, che c'è i tuoi amichetti che ti difendono. I tuoi amichetti di merda. Cult as fuck. Visto? Visto quanta cultura... Vabbè ragazzi, sapete che comunque amo... Comunque così... Sobillarvi con la mia cultura. Quindi comunque... Sapete che la mia cultura fra l'altro comprende più o meno tutto lo scibile umano. Quindi non è che vi dovete stupire. Questo mi ha sfiorato e mi ha fatto molta paura. Allora, fate a me venire a colpirmi o no? Bravo! Bravo! Aia puttana tua madre. Com'è maturo PogChamp. Questo qua se non lo cago non mi caga, eh? Meglio. Prima pensiamo a lui perché... Lo manco... Oh! Fatto apposta... Fatto apposta. Easy. Così si ammazza di un colpo. Easy game. Se assaliamo per... Niente, non posso. Volevo andare a prendere un libro su Dante per mostrare che ciò che ho detto è vero. E lo manco. L'unica cosa di Dante che mi ha insegnato è più di mille colpi. È più di mille colpi! A Petra. Più di mille colpi nella vagina di Petra. Che bello. Che bello! Ok, abbiamo un botto di anime. Ma allora, tutta la gente... Eccolo. Stavo a vedere che tutta la gente che era arrivata prima dove minchia era. Qui c'erano mille persone prima. Sulle scale che mi... Ah, ecco dove erano. Erano sotto la scala. Allora? Mai una freccia nel pene? No. Se c'erano prima si vede che mi è caduta. Avendolo di ottone non me lo possono scalfire. Ma una freccia nel pene. Vieni, vieni. Bravissimo. Dritto nella trappola. Dell'uomo più ricco. Aia! Minchia gli arcieri però. Che fastidio nel culo proprio. Ma no! Curati. Salve, salve, salve. Ok, ho usato metà fiasca e siamo ancora qua. Bene, questo posto sarà divertente. Ottone, Gachibas. Sapete quanto sarebbe bello averlo di ottone? Non mi fido io di questi messaggi. Armatura. Tenete scintillante. Non mi lamento. Avendo il durello è caduta la freccia. Eccolo lì, lo sapevo che usciva il durello. Freccia nel ginocchio, Gachibas. Abbiamo qua un ascensore. Almeno pare essere un ascensore. Però andiamo a prima vedere cosa ci dico. Vedete qual è il trucco per vincere in questo videogames? Esplorare ogni zona il più possibile. Vedete? Ora almeno muoio perché sono una testa di minchia e esploro. Altrimenti non sarei morto. E avremmo fatto un bel let's play. Ti tenete scintillante ancora? Splendida visuale. Ma chi se ne frega? Ma io voglio giocare. Pare. Hyperlulli. In che senso? No, no, no. Perché mi devi colpire? Ma è un arciere o è solo ritardato? Manco io, lo manco. È vero. Ecco perché perdo. È vero. Grazie ragazzi per me l'ho ricordato. Adesso ci penso io. Appena siamo sull'ascensore che non devo giocare. Vai nel DLC o or no balls. Ma adesso non posso adesso. Vai nel DLC o or no balls. Un miscredente. Ma adesso? Ma no, adesso, dai. Raga, adesso no, please. Uccidilo e ci sta una tipa. Torna poi da quel golem blu che ha inciso qualche minuto fatti. Sì, sì, ok, ok, ma grazie per i consigli. Ma ora no, perché comunque siamo in quest'area. Poi appena siamo in un'area di due diversa si può anche fare. Ultimo colpo. Easy. Edz proprio, ragazzi. Che noia. Ah, proprio. Cosa è questo? Scudo da Cavaliere Cristo. Ok, dovrebbe essere il più forte del gioco, no? Scudo da Cavaliere Cristo. Sebbene si... Fa niente, non fa. Bello. Ah, ma aspetta. Io mi posso mettere quello che mi ricrea la sta minchia. È questo? Ora come sono in fat? Mid. No, non mi lamento. Non mi lamento. Ok. Ragazzi, bisogna bere in questo gioco. Sapete perché? Ve lo dico subito, ragazzi. Perché? Chat, ditelo anche voi. Ditelo anche voi. Sperate che devo controllare che arrivando non mi cominciano ad attaccare subito. Se no questa cosa è inutile. Ok, ragazzi. Chat, ditelo anche voi. Se no... Se non bevete... Ditelo voi, chat. Ditelo voi. Ditelo voi. Se non bevete. Perdete. Perdete. Non vincete. Ditelo ci. Ammettetelo che è una cosa che vi piace un sacco fare. Ammettetelo. Ammettetelo che dire questa cosa è una cosa che vi piace un sacco. Ammettetelo tutti. Comunque questo titizio è fortissimo. Mi sta massacrando. Ok. Allora. Perdete. Bravi ragazzi. E' tua sorella però mi inculi. Olè. Vabbè ma è scarsone. Ma che scarsone. Ma poi è tutto lo schifo intorno. Dammi un po' qualche oggetto incredibile. Cosa sto facendo? Aspetta aiuto. Ok. Lo volevo fare così in verità io. E' lo slogan del canale. Perdete. Sua bomba. Sì. Grazie. Saea proprio. Saea in the ass. Che bello però sto posto. Sì ma io c'ho 25.000 anime ragazzi. No dai. Ho 25.000 anime. Perché? Perché E? E' meglio che torno al falò. No aspettate. Al massimo poi la speederanno. Anello del sacrificio. Bravi. 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 Merda però non posso. No. Devo togliere l'anello di Avel. Scusa se lo tolgo cosa accade? Sono infetto. Vabbè. Chi se ne frega. Settile senza culo. Settile che bello. Ma quanto Final Fantasy? Ragazzi lui è uno dei quattro che... Sti cazzi. Lui è uno dei quattro che ci mancano. Che dobbiamo uccidere. Eh sì ho capito. Allora? Cosa è sto bordello? No 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 no. No 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 no. Ma guarda che ti tiri coltello. Aiuto. Oh la sua puttana. Eh sì. 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 Vabbè. Sì. 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 Ok. 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 Dove sono? Non hai bevuto il doc. Ma mi sa che dovevamo perdere. Vedi? Perché io ho bevuto. Però dovevo perdere. Vedi? Dovevo perdere. Vedi? Io dovevo perdere. Ok. Allora che cosa possiamo aumentare? Possiamo aumentare solo di un livello. Allora esempio. Per usare le armi... Abbiamo un'ora e dieci ragazzi. Abbiamo un sacco di tempo. Per usare il dente di drago ad esempio. Spadone del de'omo serpente. Questa quant'è che toglie? 429. Quello... Il dente di drago era tipo giusto? Dente di drago più uno che toglie... Eh. Io non potevo usarla. Perché non... Sono passate a salutare di buonanotte. Ah no. Con due mani posso. Buonanotte family baci baci. Ah no. Con due mani posso. Allora no. Posso potenziare la vita o la stamina. Grazie mille per essere passata. Baci baci baci. Grazie mille per essere passata. Ora torna da Stefano a fare le cose zozze. Grazie mille per essere passata. E allora avanzo di livello. La vita o la stamina? Siete un genio e ti intrappola solo dopo che prendi il teleport. Ditto bu. Sono in dubbio ragazzi. Stamina dite? Perché tanto vita. Non credo a stamina. È meglio. Hai fatti stamina. Dite tutti stamina. Allora d'ora in poi aumento solamente stamina. Ok? È chiuso. Mi sembra la cosa più utile. Scusa. E quanto toglie questa cosa? 424. E quella lì toglie 429. Però questa la posso potenziare. E qua mi servivano le scaglie di drago. Giusto? Sì. Me ne serve una. E diventa molto più potente di quella che sto usando adesso. Ok? Vediamo un attimo com'è che funziona. Perché non l'ho mai usata. Ok? E con l'attacco pesante cos'è? È dritto. Non è ad aria. Va bene. Ok. Ok. Ce l'ho. Ce l'ho. Almeno con quest'arma se sbaglio come sto facendo adesso. Oh la la. L'attacco in volo. Molto meglio quest'arma. Perché almeno posso spammare l'attacco pesante senza aver paura. Molto meglio. Much better. Much better. È chiuso. E ho capito. Il danno più efficace è quello perforante. Ma noi non... Ma chi se ne frega delle cose giuste. Noi giochiamo male. Chi se ne frega. Aiuto? Ah ma devo davvero usare il teleco? Ma io no. Sapevo che dovessi per... Non posso. Sono confuso. È chiuso. Ma smetti di farmi... Vuole farmi perdere. Allora c'è qualcosa che ho scordato in mezzo qui. Molto meglio quest'arma. Almeno se sbaglio con R2. C'è una parete invisibile. C'è qualcosa di strano. Sono in carcere per sempre. Tra yard. Ah tu! Liberami! Tu! 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 Dammi una chiave. Dammi qualcosa. Sì lo sapevo. 200 IQ. 200 IQ. Uccidi la guardia vicino. Visto? Non serve dirmelo. Non serve dirmelo. Cazzo. Ma come non tirano? Quanto maturo di boh. Che schifo! Non ca' essa. 80 piccarati eh. Pug c'è un po'. Che schifo beh. Ma che merda. Ma che merda. Che merda quella schifezza. Aia! Subito! Quanto lento però l'attacco lento. Cosa fa? Pronto? Mi scu... Scusi lei anche mi ignora. Ah ok. Ma fusa. Ma allora? Ma cazzo. Ma dai! Ma non ci provare nemmeno ad andare via. Ma vieni qui! Ma dai! I cazzi moncans. È la... È la prole di Cthulhu. Può essere questo. Ma è la prole di Cthulhu. Hai per lui. Ma è la prole di... Infatti. È la... È la prole di Cthulhu. Hai per lui. Io vado dove sono andati loro. Mi sembra un posto utile. Se ci vanno loro dovrò andarci anch'io. Eccoli che arrivano! E neanche i nemici lo vogliono. Frenzolato da chiunque. Guarda come si muove a scatti. Minchia sembra un posto utile. È chiusa. Cos'è sta roba? Perché posso andare qua? Oddio. Ah! Ok. Uh! Per gli oggetti epici. La festa da guadagnare. Anello della magia bianca. Devo ammettere che prima mi avete salso al sabato il culo comunque. Anello... Ma è l'unica volta. Conferisce slot di armonizzazione. Ma vaffanculo a tua mano. E via! Aia! Visto? Visto? Eh? Pog as fuck. Ormai ragazzi. Ormai sono troppo... Bravo in tutto. In tutto ciò che riguarda questo videogames. Ok. Quest'arma è troppo meglio di quell'altra. Posso fare R2 senza aver paura. Non è così lenta come sembra. È molto potente... È più... È più potente di quello che sembra. C'è un tizio vero? Sì. Dai dai. Vieni vieni. Ora non ho più paura! Ora non ho più paura! Eh! Non provare a difenderti contro il mio dente di cazzo. Sì ma non c'è niente. Allora sei muto? X è veramente... Chissà perché quando gioco a Dark Souls eh? Che mi trollano di più. Chissà perché quando gioco a... Ecco appunto! J-Bated è sfak proprio. Ovviamente. Dente di cazzo Pog. J-Bated. Che schifo! Eccoli! No ragazzi mi fanno un'impressione porca però. Ok. Li posso shottare con un attacco in un volo? Uuuuuh! Look at that! È chiusa. Ragazzi. Ma con chi state avendo a che fare? Ecco è il muro di J-Bated. Il muro infinito di J-Bated. Ma è OP sta a fare! Non so che è quella merda che stavo usando prima. Guarda sta roba! Appena torno nel... Triple kill. Appena torno nel... Eeeh! Sapevo che c'era qualcuno qui. Appena torno nel... Da qualche parte dove ci sono i denti di Drago. Questa qua diventa l'arma con cui finiamo il gioco eh. Sappiatelo. State pronti. Chiave extra. Prigione Ark. Balene. Easy. Easy game. Easy life. Tu. Vieni qui. Ehi. Bravo. Ok andiamo a vedere se questa chiave apre quella porta che prima era chiusa. Con la Swinander più 15 togli 400. Mica ma fa schifo. E pensare che ho quasi... Ho tipo... Ho ucciso in tre colpi... Ok si funziona. Ho ucciso in tre colpi il demone capra con la Swinander più tre tipo. Grande anime basta eh. Che schifo. Tipo 2000 anime. Fortissimo Pog. Queste tipe se ti prendono ti buttano giù. Ah pure. Bene. Allora... Giusto perché stavo giocando senza ansia. Ma si... Si menano? Si muovono solo strano. Ma cos'è sta roba poi? La macchina del tempo di Leighton. I picarati stanno davvero tornando? Che emozione. Leighton sei tu. Amore mio. Prof. Professor Leighton vieni. No. Ok devo usare un attacco pesante però. Non voglio ammazzare lì in due colpi. Perché poi mi fottono. Però vabbè ho talmente tanta stamina ormai. Ma dov'è? No vabbè. Era lontanissimo. Era lontanissimo. Qua cosa è sta mafia? Ma... Ma era lontanissimo. Veloce. Bravo. Questo qua c'è una... C'è una gittata in equilibrio però. Ma quanto ho buggato? Ah infatti non ero io ad averlo visto. Ok. Ah ok grazie. Perché se anche voi avete scritto ma quanto ho buggato allora ok. Ok ecco la scelta roba. Ci sono gli ingranaggi. C'è un boss. E poi si animano e diventano un boss. Animano e diventano un boss. C'è una scala incredibile. A proposito da quando il prossimo Leighton non lo so. Aminano. Aminano di do u. Aminano di do v. Salve ragazzi. Sì vabbè io non ti posso prendere che c'ho il cazzone della morte. Tu sì. Non mi puoi sparare in un momento simile. Ti prego. No ragazzi ci muoio. Ci muoio qui. Spara. Ok ora. Ci dai. Pazzo quello lì. Scendi scendi scendi. Ok facciamoci seguire perché qui ha. Questa sì che è lunga come. Esatto appunto. Non l'alabarda della merda secca. Eh sì bravo. Ma cosa. Eh ok ma mi ha parlato. Ho detto minchia ci hanno un milione come vita. Uh. Uh. Ok contro questi qua è più forte il dente di drago. Sto cercando di capirlo. Che poi ancora io devo capire bene le tempistiche di quest'arma perché è lentissima. Ok. Easy game. Easy life. Eh lo so il lago di cenere è pieno di scaglie di drago. Sì lo so. Ci andrò. Ci andrò. Sì è vero Mauri ma noi siamo un giocatore ignorante come la merda. Per me un dramma è forte se è forte. Non se è veloce se ha caratteristiche strane. Solo se ha un numero. Che porta gigante e torre arca. Per me è forte solo se ha un numero grande vicino a dove c'è scritto attacco. Ok spegniamo sta merda. Oh. Grazie. Cosa ho fatto? Vabbè tanto devo andare su al falò immagino no? O forse qua. Aspettate. Ma vuoi mettere stunare tutto con R2 al massimo? Oppure spammare R1 come mi diverto a fare io? Poi questi due mi sa che si sono buggati. Guarda che bello. Bellissimo. Il sogno di una vita. Guarda che bello. Sì. Vabbè qua mi sa che posso anche fare l'attacco base. Miracolo. Miracoli. Ma chi se ne frega. È chiuso. Vaffanculo. Sally Face avevo detto che l'avrei fatto dopo Nine Clues The World. L'avevo detto. Avevo detto che i prossimi cosi erano Nine Clues The World, Sally Face. Non erano buggate è che non erano aggressive Dance Game. Ah. E vabbè ragazzi io ammazzo gli NPC. Ho ammazzato quella con le tette enormi. Perché mi stava parlando troppo. Va in full level. Fat roll. No. Fat è troppo. Fat poi. Cioè questa... Finora mi sto trovando bene. Devo restare in mid così riesco a schivare. Solo per quello. Devo mangiare un'anima così salgo di livello. Grandi anima. Quanto mi dà questo? Just what I need. Via. Sally Face Poggers. Mi ignorano. Ah è vero mi ignorano perché ora ho spento il... Il carillon tipo. Ok. In teoria. Sì mi ignorano. Easy. Mangia le anime. Monca Omega. Il diaulo. E si va. Ok. Vabbè era ovvio che era questa la porta. Non so. Non mi sarei bloccato qui dentro per sempre. Oh. Finalmente luce. Luce. Dio disse luce. Luce fu. Uh. Va che spettacolo però. Vero be... Ai. Ma sei... Ma sei scemo? Ma come hai fatto a colpirmi? Che schifo. Ah ma c'è un arciere. È così che mi ha colpito. Spara. Uh. Uh. Aiuto. Fa anche uno strano attacco. Dopo la rotolata che non sto ben capendo. Ma quant'è che non fa un backstab? No. Ogni tanto li faccio. Si è odato un solo. Ogni tanto li faccio. Cosa fa? Cosa fa? Ballicchia. Stai fermo stai. Che cazzo è? Io non so che cosa fai. Mi inquieto. Perché non so che cosa voglia dire il ballicchio. Oh ma siamo qui siamo. No aspetta. Dove cazzo siamo? Sembrava il posto di prima ma è diverso. Lo amo. Che cosa? Me? Mi? Mi?